Ciao a tutti, in questo video voglio parlare dell'infedeltà virtuale. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Allora, cos'è l'infedeltà virtuale? Allora, dobbiamo tenere presente alcune cose fondamentali, che l'infedeltà online è molto molto più diffusa dell'infedeltà, diciamo, offline, dobbiamo tenere presente che l'infedeltà online si manifesta in molte modalità, sia semplicemente con delle chat, sia anche talvolta con delle videochiamate. È molto molto più diffusa perché intriga, piace e comunque non genera sensi di colpa. ed è più difficile nasconderla perché qualora il partner, diciamo, virtuale, l'amante virtuale, volesse, diciamo, essere più eccessivamente presente o comunque iniziasse a diventare un problema, basta bloccarlo dappertutto e quindi sparisce completamente. E quindi si protegge maggiormente il rapporto alla relazione fondamentale. Ci sono persone che, diciamo, lo fanno anche, tra virgolette, in modo sistematico, no? I cosiddetti allumeurs francesi che hanno, coltivano delle, diciamo, infedeltà virtuali semplicemente allo scopo di viversi delle trasgressioni, perché poi l'obiettivo primario dell'infedeltà virtuale è quello di viversi delle trasgressioni senza nessuna, diciamo, nessun obiettivo vero e proprio. È ovvio che l'infedeltà virtuale, per conto, al fatto che se viene scoperta, provoca gli stessi effetti, diciamo così, dell'infedeltà reale. In primis la mancanza di fiducia, cioè non ti fidi più dell'altra persona, e poi, oltre alla mancanza di fiducia, anche, diciamo, un po' di malessere, ansia e risentimenti. Quindi gli effetti poi, di fatto, sono comunque molto simili a quelli dell'infedeltà reale, non è che ci sia molta, molta differenza. Per cui, diciamo che è uno strumento per viversi delle trasgressioni. È molto diffusa proprio per, sia per l'avvento dei social, che sono stati dei diffusori, diciamo così, endemici di infedeltà virtuale, sia anche per, senza pensare ai social, sia anche proprio per questioni legate alla, diciamo, questioni legate proprio alla facilità con cui si può manifestare. Dobbiamo tenere presente, quando uno vuole iniziare una relazione virtuale, che il vero problema è che se lui è single e l'altra persona è impegnata, e quindi diventa un'infedeltà di questo genere, non devi creare delle aspettative, perché il vero problema è che ci sono persone che soffrono anche per le storie virtuali, e soffrono anche fortemente, come fossero storie reali. Questo è il vero, secondo me, problema dell'infedeltà virtuale, non tanto che, diciamo, sia una forma di tradimento o meno, quanto che se tu sei single, o se tu ti coinvolgi e sei disposto addirittura per dire a lasciare il tuo compagno o la tua compagna. Ecco, questo è il vero problema, perché entri in uno stato in cui difficilmente poi riuscirai a venire fuori in modo pulito, tra virgolette. Per cui impara a non, diciamo, a non viverti l'infedeltà virtuale come una cosa importante, ma semplicemente come un gioco, punto e basta. Allora può essere un gioco anche divertente. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!